Allora, vediamo un attimo se siamo in live. Va bene. Allora... Ok. Sto l'encogliamento. Aspettate, voglio mandare un attimo... Vabbè, non ho un vocale, no. Vabbè, me lo aspettate. Voglio rispondere un attimo a sto tizio. Così almeno lo lascio così. Allora, dove sta il tizio? Che mi ha detto 300 euro, no? Allora, mi dispiace, ma è stata utilizzata un'oretta. E... 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 Vabbè poi lo rispondo Mi sono rotto il cazzo Vabbè live su FIFA Allora Capisco perfettamente Ok allora perché mi hai proposto 300 euro E quello è il discorso Cioè fa ridere Grazie lo stesso La mano ti invita al saluto Vabbè Allora mister ci sono inoltre Sto male Vabbè raga questi Gli rispondo così Mister se non decido di mandarmi in campo Tutto posto non arrischio Non si discute Vabbè raga questi li schippo Proprio perché non c'ho voi Sì tutti così Sì ma cosa bello Capisco perfettamente Allora perché mi proponi 300 euro Se lo capisci perfettamente Ok Oliveira Dal Napoli all'Ipsia mi pare Ah no ma mi è caduta All'altra pallina del piercing Non quella lì Che mi cade sempre Ah vabbè Ok vabbè Allora ci sta caduta Da una e poi l'altra Ma cadono tutte e due insieme De Ketelare Milan-Bayern Ok Gioca una ribasso Spetturamente Se bocchi Bumperlor Eh se per Bumperlor Ma mi fa ridere Capisco perfettamente Non credo Fra che capisci perfettamente Non credo Perché se l'avessi capito Non mi avresti proposto 300 euro Mi dispiace Allora Vabbè Io ve l'ho detto Il calciomercato è inutile Perché Tanto a fine stagione Se ne va Valencia Se ne va No oddio Vabbè ma a fine A fine Contratto Vabbè sti cazzi Tanto raga A fine anno Ciao Cagliari Siamo a gennaio Eh no ma non ce la facciamo Stavo pensando Non è che In questa lab Riusciamo a A passare Nella squadra nuova No No Non ce la facciamo Semplicemente Perché Sto pensando No Ci metto due live Due tre live Due live Ma perché mio cugino Mi scrive Vabbè perché mio cugino Vuole parlare normalmente Ovviamente non è che se ne fotte Del gioco Infatti mi ha detto Che hai fatto in questi giorni Vabbè Ma lo vedi pure in live E vabbè cazzi Io l'ho detto Se mi girano i coglioni Mi andrò a giocare io Cioè E poi quando mi scorcio La vendo Però almeno l'ho usata E vaffanculo Non conosco manco nessuno Che se la vuole pigliare Che si conoscessi qualcuno Ad esempio Se il mio cugino mi dicesse Guarda ok Me la piglio io Vabbè Cagliari Genova Ok ma siamo al primo posto Credo di sì Stime 1,78 I card di 70 Vabbè raga I valori sono quelli Mi sa Sì Alcuni stanno andando in Eh vabbè Ci sta Capisco perfettamente Ah uguale Questo non è un idiota Sì ma glielo ho detto Che sto in live Anzi ma io dico una cosa Ebbè Se entra in live è buono Fra Eh niente Si stacca i vocali Quando io guardo una live Si staccano i vocali Eh fra magari Te dico dopo Che mostro in live Sto a fare FIFA La carrierozza di FIFA La carrierozza di FIFA E c'ho 5 spettatori Non è vero Eravamo 5 ma siamo in 3 Zitti Oh no veramente Quando ho iniziato Quando ho iniziato a Cioè quando ho avviato la live Eravamo in 5 Mo siamo in 3 Vabbè Subito Subito Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh my god Oh my god L'enfasi napoletana Come dice Laura Che poi Non mi pare L'enfasi napoletana Vabbè No non ci ho fatto caso Vabbè però io ho una mod Che sa Insomma Sa Sa dialogare Sa tenere Gli spettatori In live Non è money Laura zitta Laura Sì ho capito Credo di aver capito Di che video parli Ma che stecca Madonna No Giuliano Ti metterai pure tu È piacere A parte che Su Ma lo sapete Che non potete Vai Simeone Non potete Non potete Mandare link Certi tipi di link Su Twitch Non li potete Mandare Venite bannati O vi banna Twitch O vi banno io Che non si possono Non si può fare Anche perché Una streamer L'ha fatto Ha messo Ha copiato E incollato Un link Di un video Porno E è venuto A bannata È pure italiana Statizia Io la conosco Vabbè conosco No che ci parlo Però conosco Chi è Cioè so chi è È fuori gioco No è fuori gioco Giovanni 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 Che tipise Va bellissimo sto lancio Madonna Mani Mani Che schifo di tiro E che schifo di parata No Nessun provvedimento disciplinare Almeno per ora No Non penso proprio Che sono io Quello Insomma così È così È proprio così Il video Ah Mannaggia Però bel tiro Attenzione Che dopo Di base Dovremmo giocare Tutti e tre Io Insomma Insomma Lì Non apro veli Vi mettere in imbarazzo No Allora In realtà Lì pretendo Una Laura Forte Perché sapete Questa ragazza Di nome Laura Si Dice che è molto Forte a COD Eccetera E beh Dovrà essere brava Pure comunque Su Rogue Perché alla fine Mirare Sparare Dovrebbe essere Semplice Per lei Qualcosa Allora Secondo me Secondo me Fa più danni Laura Che Giulia Non so perché C'ho sto presentimento Anche se Anche se Laura non ci ha mai giocato A Rogue Secondo me fa più danni Di Giulia No infatti Non ho detto La più brava del mondo Attenzione Però Ti sei Hai detto Che sei forte Che sei brava Quindi Di base Comunque Dovresti riuscire A fare Dei danni Decenti Allora Ti concedo Almeno Alla fine Allora Devi fare Minimo 1.500 Che so facili Secondo me Da fare 1.500 Di danno 1.500 Di danno Giulia Il massimo Che ha fatto È stato Quasi 1.000 Però Giulia Non si trova Visto come Come gioca Giulia È da persona Che non sa Proprio muovere Tastiche Un'altra cosa Tu il pad Cioè il pad Che è più facile Rispetto alla stile Ci giochi Quindi Di base Dovrebbe essere Più semplice Per te Eccala Scoppoletta Mamma mia Non cambia niente Non cambia niente E allora Come code Miri con L2 Spari con R2 Ah l'unica cosa L'unica cosa Prima di iniziare Ti devo far mettere Delle impostazioni Perché C'ha delle impostazioni Diverse Tipo lì La granata La lanci Con L1 Invece tu Su code La lanci Con R1 Capi Calcio di rigore Perché l'ha sfiorato L'ha sfiorato Vabbè Vaffanculo Dai Dai Come l'ha presa Baschiro Ma vaffanculo Ma sei tu Però Cioè l'ha presa Proprio col braccio Vaffanculo Dodo Sommer Let's go Let's go Sommer Let's go Devo stare attento Perché se no Mi si toglie Mi si toglie Proprio il piercing Mamma mia Sommer Mamma mia Mamma mia Cross Dentro in area Test Dai Perciò con le mani Meno male Ho visto il tizio L'arbitro Che ha messo la mano In area di rigore Detto un altro rigore Lui avrà da ridire Lui avrà da ridire Lo senti Già 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 vi avviso Allora Con Giulia Ci ho perso le speranze Giulia resta nel punto Laura Se sa giocare Cioè nel senso che sa sparare Me la tengo con me Perché almeno mi dà supporto Giulia il supporto Non me lo dà Perché non riesce ad alzarmi Perché dice che ha problemi Non riesce a Oddio Vabbè oddio Ieri però hai fatto qualcosina Perché comunque ieri ho visto Che stavi tipo a sparare uno L'hai buttato giù Quindi Però l'hai avuto culo Perché mi sa che l'hai avuto Proprio Annaccia Madonna A quello l'hai avuto Proprio davanti alla visuale Che se no Non l'ho beccata Mi sa Allora la sto demolendo Però è la verità Cioè Pure io ci sono giochi Dove faccio cacare Faccio schifo Lo dico Ha senso Beh a me è un po' difficile Perché se lo so giocare Cioè se lo so controllo Il pad Un po' difficile Che non so giocare Mamma mia che lancio Che schifo Che schifo ancora Vabbè comunque la batteria Boh magari la metto Doposcena Vediamo Non so perché Non so Mio cugino ha detto Ok Forse entra Vediamo Ti giochi da una vita Eh sì ma infatti Non sto dicendo Cioè Però C'è anche il fattore Che io ci so giocare Ma Allora Ma il mio discorso Non è offensivo Verso di te Sto dicendo che Giura Se vabbè Cod Se Certo Tu non hai capito niente Tu non hai capito Che se fai giocare Giulia Accordo con te No Inizia a best m In tutte le lingue del mondo Però in aramaico Lingua che tu Probabilmente non conosci Ma inizia a best m Però in aramaico Mauritto Icardi Se mi lasci il punto Non pratico Ok E quindi mi vuoi far perdere Tutte le partite Praticamente Praticamente Perché se tu Stai fuori al punto Ogni tizio Che ti becchi davanti Ti demolisce E perdiamo punti E quindi ogni partita È inutile Se no Ti metti a far pratica Con i bot Se vuoi Sta fuori dal punto E poi Chi ti dice Che nel punto Non entrano Come non entrano Ieri ti hanno demolito Che erano in tre Ah se no non entrano Nel punto Non fai pratica Forse fai più pratica Del dovuto Mi sa Vincere 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 Ci sei Uapedri United Mamma mia Mamma mia Vabbè Questa si schippa Raga Vai Non sei comprensivo Lei si Ti ringrazio Io sono sempre Dimenticato Con chi viene De negrato Dei Presunti big Se continui Così mi arrabbio Senti È la verità È la verità È la verità Magari diventi Rimetti bravissimi E lui verrà Umiliato Sei dubito 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 Oh Cagliari Sassuolo Anzi Per diventare Bravissime In quel gioco Mi sa che dovete Mangiare Tanti spinaci Dovete fare Come braccio di ferro Cioè ti immagini Io quando non ho voglia Di giocare a rug Faccio comunque 2000-3000 di danno Ma apro 4000 Secondo me Vabbè ma dipende Dipende dalla modalità Se faccio streak out Non volendo Faccio pure 5000-6000 Eccala Mamma mia Che difesa E poi non è Aspetta Non è una cosa Solo riguardo le donne Perché proprio mio cugino A rug Cioè a rug Lo demolisco La stessa cosa E che sono bravo E che ci vuoi fare E sono bravo Sono bravo Bra 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 Bella Bella Oddio Holly e Benji Play together Che poi una canzone Mi piace tanto E questa qui Di Holly e Benji Ma quella remixata Andrò come se la Mina Gioca da serio Guarda con noi Che tu devi ancora giocare Allo Fermati Io non sto pretendendo Rambo Attenzione Però Laura Essendo che lei Sa giocare col pad Come minimo Se sa giocare col pad Ok Deve almeno fare 1500 Ma non li pretendo subito Però Quando Prima di staccare Voglio vedere Se riesce a fare almeno 1500 Se li fa Wildy che effettivamente E' brava a giocare Cioè sa giocare Proprio col pad Se non li fa Wildy che mi stava Piappere il culo E lei E lei non tollera Le bugie Quindi se mi dice Una bugia Eeeh Eeeh Penitenza Oh Oh Eh Annaccia Ma stava ancora Zero a zero Niente Porco de moi Infatti Non mi sbilanciare Guardo perché Magari mi rivelerò La scarsa Probabile Per quanto sia Sembra cosa Visto che è Molto più lento Vabbè Ma c'ha la scusa Che è lento Il gioco Poi lento È normale È code che è veloce È da fastidio Secondo me Cioè tu scusa Devi dire una cosa Così No Invece è list È più tranquillo Oddio Insomma Dipende Infatti Infatti Laura ha visto il video Con mio cugino Mentre stavamo giocando Dove io Dicevo Stai fermo Fai questo Fai quello E abbiamo vinto Mio cugino invece Uscì Oh mio cugino Allora Guarda No Guarda Mio cugino esce fuori Dalla Dalla porta Io dico Non uscire Appena esce mio cugino fuori Viene massacrato E ho detto Rientra dentro Poi Aveva l'autores Lui Quindi si è autoressato Ma se non c'aveva l'autores Lui mi aveva inculato Io devo fare il capo Nei giochi Vabbè dipendo Quando mi concentro Madonna Quando mi concentro Posso dare consigli Quando non ho la testa Non posso di niente Un complimento Puoi farmelo Gratis Ma scusa Una domanda Una domanda Vuoi che io sia sincero O vuoi che io sia falso Se mi vuoi falso Te le faccio quanti ne vuoi Se mi vuoi sincero Ti dico In cosa devi migliorare Vabbè Partendo dal fatto Che devi migliorare Proprio con la mira Perché tu non c'hai mira Cioè la prima cosa Che devi imparare tu È muovere entrambi gli analogici Quella la tua prima Eccala Quella è la prima cosa Che devi fare Imparare A usare entrambi gli analogici Ma io non pretendo Gesù Cristo Perché se pretendessi Gesù Cristo Io non ci giocherei Proprio con te Cioè Perché alla fine Le partite Le carri ho io Capi qual è il discorso I carri Bella Attaccano a caccia di sparsi Manz 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 No coglione Beh mamma mia Albaretto Come lazzaretto Mamma mia Che punta schiattata Ma sul fattore che ti ascolto Puoi farmi il complimento Oddio Eh Ma è vero però Le partite le porto avanti io Perché Gioco meglio di tutti Ho acchiappato qualcuno Più forte di me Però due Due su Due su Una Non so quante partite Più di 300 Tipo Due soltanto E Vabbè Poi dipendo pure dai personaggi Che ovvio Se io sto col cecchino E non mi trovo È normale che quello è più forte di me Però Però Allora Il complimento che ti posso fare È che a volte mi ascolti A volte A volte Come il fatto del tasto Che io ti dicevo Giù vedi che forse Non ho di quei tasti Eccetera Eccetera Tu incocciavi Dici Ma forse non è quello Non è quello Però poi alla fine è quello Che era quello Che ti faceva abbandonare No ma c'è stata pure un'altra volta Che tu incocciavi Io ti ho detto Guarda è così È così È così E poi tu hai detto Che era così Però non mi ricordo Che cos'era Forse qualche impostazione Mani? Sì Quando uno non comprende Aspetta Ieri stai nel punto Sono stato nel punto Eh Ok Ma ora Stai iniziando Insomma Ad ascoltarmi Però c'è stato pure Dai Quando è stato Quando è iniziato a fa Sì Ma io volevo Volevo provare ad ucciderlo Una cosa del genere E sei morta E io ti ho detto Non lo fare Ok Mandami il drone Ti ho mandato il drone Non apprezzi nulla Ma quello sì Ma Eh vabbè Allora ti sei dimenticata Ieri quando stavamo giocando Allora ti sei dimenticata Allora Ti sei dimenticata Perché ieri ti ho fatto i complimenti Allora Il mio Comunque mi viene da ridere Il mio denigrare No no È denigrare Denigrare Ok Spelling Il mio denigrare È il fatto che tu Ti do dei consigli Che poi ti dici Eh io sono nel punto Come faccio a fa pratica Ma gli avversari Nel punto devono venire Poi è normale che tu dici Eh ma Non arriveranno mai Perché li uccidi tu Ok Forse avresti pure ragione Però comunque devono arrivare nel punto Perché sennò Vabbè E Io non so tu che pratica vuoi fare Perché l'unica pratica che tu fai Quando giochi con me È farci perdere solo i punti Perché tu vai vicino al nemu Allora Questo è il gameplay di Giulia 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 Muro Giulia dietro al muro Giulia che prende prima la mira Sul tizio Poi il tizio ovviamente Si muove Si gira Si fa E Giulia la perde Proprio di vista Quindi la mira ormai L'ha mirato Ma il tizio se n'è andata Quindi la mira è stata inutile E il tizio se n'è la E Giulia rimane dietro al muro Oppure si mette talmente tanto esposta Che la uccidono Vabbè Ma devi capire anche lei E devi capire pure tu una cosa Allora forse il problema è che lei sta facendo pratica con me Deve far pratica con gli scarsi Allora che gli devo dire Eh sono troppo forte Deve far pratica con gli scarsoni Che gli devo dire Quando Insomma arriverà ad un livello decente Forse potrà giocare con me Ma non c'ha senso E' quello del discorso Anche perché Non so quanto tempo ci vorrà Per insomma Per imparare Madonna Vabbè ragazzi Ma siamo 3 a 0 Alla schifo 3 a 0 Sì mi ricordo Non solo tu Pure gli altri Pure gli altri Qualcuno Vuoi vedere come non gioco più Il gioco con Laura Stava di una brutta cosa Lascia non sta Allora posso te ne arrivo Mi sta provando un grazie Vabbè vai No Non lo dico Non lo dico Ma il Napoli Ok Ma aspetta La partita col Borussia Quando la Infatti ormai Dilla No no la dico Meglio se non la dico Nel Borussia dopo Va bene Ma che stiamo a febbraio Oh ma già stiamo a febbraio Ave l'ho detto Forse domani si può pure film Camello 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 Ma Saul è quel Saul? Potrebbe essere Sembrava la selenità Invece al Torino Attimi Flash di fotografie Allora No E chi siamo Bello sto lancio Madonna Alexandro Ti prego Ti prego Ti Prego No Allora Fred Bella Baschiro Bella Una cosa buona L'hai fatta Madonna È a bene Impossibile Possibile Imposbo Imposbo Madonna Fred Imeri Ma che ca... Io l'avevo passata Va bene Ma chissà combina il portiere loro Vabbè meglio così Io non so se c'è un problema con la X Ma a volte è come se non si premesse Non so perché Un po' weird Portiere sugli scudi Nell'occasione precedente Ha negato un gol che sembrava già fatto Situazione che resta in perfetto equilibrio No No Mamma mia Sommer Wah Sommer Flash Mani No niente mani Ok Mamma mia Fred Bellissima Mani Eh vaffanculo Ma la mano la piglia no La mano arriva Meglio se non dico altro Gol No La signorina serena Vaffanculo Cammizzaro Madonna Madonna Madre Santissima Che cazzo di gol Che cazzo di gol Che cazzo di gol Madonna Bellissimo No no Questa da rivedere Mamma mia Mamma mia Che gol Che gol Che gol Onsolo Mamma mia Ma è scesa proprio Bella Bellissima Bella 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 Maurito Icardi Che cazzo di gol Che cazzo di gol Che cazzo di gol Che cazzo di gol Non penso Camillo Che cazzo di scivolata Eh lo so Eh lo so Eh che ci vuole fare Comunque lui c'ha il giocatore migliore Eh vabbè Vabbè Mauro Mauro Furga sempre lui Pam Pugnettone alla bandierina Ci sta C'ha senso Mauro Madonna Ma che cazzo sta giocando Iha Mani Ah no Boh Ho visto che ho preso la mano Mamma mia Icardi Icardito 3 a 1 Non so Non so se si muove Per proteggersi dall'intervento del difensore E non ha lasciato un scappo a portiere Eccala C'è la conclusione Intervento eccezionale di Zom Fina Si chiude qui il primo tempo con le squadre che tornano negli sfogliatori Vincere 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 Ok Che ora so Minco rasso Goal Domani Eh goal No scherzo Eh dico sempre goal ma non sei Ah questa si potrebbe pure simulare In effetti Ma chiedo su 5 a me Mi chiedo una linea perché ha cambiato qualcosa nel match dell'udinese Sentiamo Prima rete della partita per l'udinese Punteggio che ora è sul 2 a 1 al minuto 49 Mi gusta los variores Mi gustas tu E c'è il goal al volo Un goal straordinario E qui possiamo rivedere un senso del gol Ma ripartendo da mani Ci sta Ci sta Ci sta E si Ma è forte il Torino Ma è forte Ma guarda questo Che culo in bocca C'ha il culo in bocca Diamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura Difensore che si è fatto saltare troppo Ma si mette in questa partita Puldo anche al portiere Non ha avuto problemi a metterla dentro Con una confusione C'era ma che Ma boh È un altro rimpallo lo vinci? È probabile Ma che porca putte Questo vincere Questo vincere a rimpalli Cioè questo ma Vabbè vaffanculo Mortacci tu Giovanni Simeone Carica il tiro Alla ribattuta Vabbè Stava a fare una grande cosa Eh niente C'ho i nani in campo Con tutto il rispetto per i nani Eh però Eh niente Vince tutti gli impalli del mondo Va bene Quello sì Ma va Eh sì Fra ma te la metto in mezzo Ma almeno vacci in mezzo No Vaffanculo Vaffanculo Eccala Due cambi Non si può giocare così Eccala Persa di nuovo Fallo Allo che dira Che dira La sorralla che canta Marin Stealer Basta Simeone lo lascio Prego prego Un passaggio dovevi fare Un passaggio dovevi fare Uno solo Passaggio della vittoria Stanno bene Bra Perfetto Glielo stiamo a regalare Bene Alvaro Garzia Continuano a premere Questo finale Manca Mancano Dieci minuti Diciamo Dieci minuti Seicento secondi Da giocare ancora Madre santa Pallo gol Pammai Pallo gol Giovanni Si Me Oh Ne Dai Lo stupo Nessuno Nessuno ormai ci credeva più Il replay ci permette di apprezzare meglio L'ottimo contropiede che ha portato al gol Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore E non ha lasciato scampo al portiere Giovanni Giovannox Simenon Possono dunque condurre in questo finale Rete pesantissima Niente Ampadu 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 ce l'avevo io nel Napoli mi pare Porto Bella Eh vabbè Troppo bassa Gliel'ho data Fred No Fred Non tira Lascia sta Però non fa manco il Meno male Oh No mannaggia Mi ha marcato Ampadu Bastante Mamma mia Che her Finita è finita Butto butto Mamma mia Questa sudata 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 3 gol di guardi Mamma mia Cioè i guardi nel mio Napoli faceva cacare Qui niente Oh mio dio Non so perché mi sta venendo a dire un nuovo Il ritorno del gusto Dello scudo Mmm Con la pillola maledetta Ma ma Aspe Che abbiamo È il Parma Sabe Questa è una di quelle partite che skipperei Ovviamente la classifica Beh la giochiamo Ah conferenza sbagliata Un saluto a tutti i presenti Possiamo cominciare con le domande Grazie No cazzo sbagliato Che ora sono Mi corazon Mi gusta il fuego Ma ma Eh vabbè Tocca a loro Chiudi Mi ha fatto i tre l'ultima volta Manca poco al calcio di inizio Non cambiate canale Non ci sente niente Manca poco al via di questo match Ci sono tutti i presupposti per divertirci E ci divertiremo Amici miei Ciao Pier Quando c'è da assistere una partita di calcio E voi amici a casa Ascoltate il mio consiglio Rimanete incollati al video Non ve ne pentirete Tss Tavare Uh ma che è sta botta Ma il Parma chi c'ha Ma mi ricordo nel Parma Mi pare ci fosse Biabiani Mamma Bellissimo Biabiani Fortissimo Un po' più lento Che dici A parte che ho messo sta rosa Ma forse era meglio mettere qualcun'altro Perché ma c'è il Borussia Vabbè sti cazzo Sss Uh 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 Aspè è buona Mamma mia cazzione Que' azione Che azione Marin Marin Brasil Brasil Ma metto i occhi al Non c'è più Eccala Brasi Mamma mia Sommer Mamma mia Ma mi ha salvato Sommer La perda palese E invece no Cazzo è il FIFA Sound Sono andato a tirare da solo Sometimes I don't think about this You Eh nah 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 I don't know Furad Furad Cross dentro No questo Ho tirato Eh mannaggia Sometimes I don't Il Cagliari si presenta a questa sfida Reduce dal successo Conquistato contro il Torino Che gara ti aspetta Niam 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 Badonna Che cazzo stavo a fare Vabbè Quella è la mia colpa Aspè Bravissimo Hai capito tutto della vita Eh vabbè Però ho fatto una bella azione Ammetto Ammetti Scolo 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 Fallo Fallissimo Fallo mega Fallo iper mega ultra Ma non segno la punizione da tre anni La segnalo ora così a random Vabbè dai Era goal Cioè Su pesce la segnavo subito Pesce A bei football Non è pesce Cioè La padula Ah vabbè Ma ormai Tutti i giocatori di mini Se ne vanno Sono vecchi Umbra Penumbra Umbra Penumbra E il pallone entra Adesso hanno due gol di margine Sembra un po' Harry Potter Harry Potter Fuor gioco Mamma mia Che cazzo Fuor gioco Fuor gioco Io lo so Che non sono solo Anche quando sono solo Io lo so Che non sono solo E rido E piango E Dov'è quello Con il cielo Con il fango Niente Bella Eh wow Io tolgo a lui Lui toglie a me Io tolgo a lui di nuovo Lui toglie a me di nuovo Eccala Comunque ragazzi devo vedere Dopo la batteria Perché Comunque devo registrare Qualche video di Dokkan E poi vabbè Cioè Mi serve Cioè Poi almeno ecco Magari potrei metterlo Al posto del mio iPhone 12 A guardare la chat Proviamoci Non segno mai così Mai 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 Io lo so Che non sono solo Che quando sono solo Vabbè La perdo La perdo pali Mostro Mostro Mi segnerò mai Ok Eh dai Questi No Mi fanno Golello Sapevo Ma Lasciano Madonna Sì La devo montare Cioè La devo Cioè Sì Però deve stappare mio padre Perché se succede qualcosa Almeno stappare lui Se zompa in aria Capito A parte che non è proprio semplice Però Vabbè I Mary Secondo me Best acquisto Comunque Si raccava molto bene Sulla fascia Siamo in due Nessuno gli toglie Nessuno gli toglie la palla Vabbè Buona fortuna Grazie Se muoio Ve lo dico Vabbè Non lo saprete mai Che sono morto Fred Di testa Niente No E la perdo Oh Devo scherzo Vai Vabbè Vaffanculo Vaffanculo Di nuovo Sì Faccio Tera Sommer Faccio Tera Sommer Cross dentro In aria A cercare Maurito Cardi Mani Mani Non è my money Va bene Non le dico Però potrebbe succedere A tutti potrebbe succedere Vi lascio la mia eredità Giù cosa vuoi in eredità Da parte i soldi Che non ho Eh dai No Dai Che palla Che palla Non ho capito Che ha detto il tizio Banni Banni Ah Il pupazzo Io penso che La cosa Pim Eccala Vabbè Mi sono Deconcentrare Secondo me La cosa Più importante Da avere Di me È questa Secondo me Questa Perché questa Ce l'ho da Da Undici anni Ce l'ho addosso Da molti anni Quindi Penso sia la cosa Più preziosa Che ho addosso Praticamente Cioè come Cosa affettiva Non so come dire Che probabilmente Non toglierò mai Ma forse sì Chi lo so Eh frate L'ha regalata Bravo Ti ha regalato Un'occasione L'hai sprecata Vaffanculo Morte le cuffie Colpi tirati Sono stati vani Ma c'è con l'altro Che mi hai dato Ah sì Sì ho capito Quale dici tu Le cuffie sono morte Ma non hai Un altro paio Di cuffie Cioè Non c'hai Non c'hai Quelle là Con l'Aux Schifto Ragazzi Quelle con l'Aux Nella realtà Il bracciale E bagni Niente A forza E si è fissato Questo bagni A parte che sta Lassopra Mi sta guardando Ok raga Questa Questa è già Sulla partita Con le toste Baurussia Contro Cagliari Allora Alvarez Carrasco Pellegrini Camara Elmas Mamma mia Che cazzo di squadra Mamma mia Questa è già una squadra Da 80 82 86 87 Secondo me Veramente forte Secondo me Sì ma con il tuo consenso Vabbè quando sarò morto Non avrai il mio consenso Tanto ormai Comunque se c'hai quella Col Jack Aux Hai fatto Perché le attacchi qua Tanto il pad Della 4 Della 5 C'hanno lo stesso attacco Le attacchi qua E funzionano Però dipende Pure che telefono hai Perché quelle dell'iPhone Mi sa che non si sente Va bene Non ne parliamo più Però prima o poi Deve succedere C'è il naso C'è il naso di Voldemort Eh comunque Allora io già vi dico Raga Se esco fuori dalla Champions Probabilmente Molte le simulo velocemente Cioè dico le partite Proprio del Del campionato Eccola Ma Marco Reus C'è più? O l'hanno venduto? O sta in panchina? Vabbè Secondo me la Juve è più forte Del Borussia Quindi secondo me Potrebbe pure far Forse Bella Va bene Non ne parlo No ma però Veramente Cioè Allora a me Mi fa male O la gola O il naso Il naso Vabbè Vado Eh niente Che culo Tutti così Mi segna Tutti così Non c'era uno Che mi fa un gol Normale Che culo Che culo Così Ho sul rigor Fammi un gol Che il portiere Manco la piglia Cioè Eccola Vabbè Ma ve l'ho detto È difficile L'altro anno Col Cagliari Non lo so Non so se si potrebbe Fare un altro anno Col Cagliari Però non lo so Detto Un po' Mi scucce Fuori gioco Profondo Profondo Di carri Tutto fermo Sale la bandierina Sulla verticalizzazione Non hai visto la linea Che saliva Ha ricevuto pallo Vabbè Io l'ho detto Se c'ha questa qua Con l'Aux Ha fatto Cioè Però se le vuole Bluetooth Senza filo Lo so Arrancia Perché non Non lo so Ci devo provare Ci devo provare E Eh Eh Volevi Eh guarda Che culo in bocca Questa Mortacci Pellegrini Pellegrini Oh Cazzarola Fallo Ma non è fallo Godo Meglio per noi Questi hanno la difesa di Cristo Madonna Cazzo C'è un vetro Oddio E non corre No la perde Ma chi è Shule Mi sa che è Shule Quello No oddio Non so se si chiama Shule o Sule Vole è Sule Però Beh ognuno Lo chiamo in cazzo Cazzo Chi parla Prova Pelle Lo chiamo Pempe Vabbè Quello ha sbagliato Proprio lui Prima c'è a ridere Pempe Gol Guarda No di nuovo Si raga Ma non si può giocare così Due gol su due rimpalli Ma come cazzo Cioè Non lo so Dai Maffanculo Cioè Due gol così Non si può non vedere Dai Ma che è Cioè Non è Non è fattibile Sta roba Mamma mia Imery Imery Ma sbaglia la fine E Imery Non sbaglia Imery Imery Non sbaglia Imery Non perdona Il pallone penetrato Nella rete Va bene Due a uno Noi Non ci arrendiamo Noi non ci arrendiamo Noi non ci arrendiamo Due a uno Sì ma guardate Chi è andato a segnare L'esterno sinistro Che ha fatto tutto Da solo C'è un bello Ci sto pure io Che non sono Proprio io Va bene Marine Ika Gliel'ho regalata Io il Mastecelon e l'Inter Ma non mi piace Però Non so perché C'ho Xavi Simons Che quello Mi piace tantissimo Wow Quello ha fatto Un botto di gol Mamma mia Che culo Fallo Sprecato un'azione Brant C'è un minuto Ancora da giocare Dai 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 L'ultimo minuto Facciamo un altro gol Sotto Perfetto Bravo Corri 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 Cross dentro In aria No chi cazzo Mani 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 A volo A volo Schifo di video Vabbè ci sta Vabbè ma Se va male Non fa niente Comunque te l'ho detto C'hai le altre cuffe Gua io Allora Io ho le cuffie Diciamo Senza fili Ma Sono delle prese su Aliexpress A 2 euro Fanno schifo E Sono grosse Poi ho tutte Cuffe coi fili Tutte Con i fili Eh vabbè Ronaldigna Eh vabbè Vaffanculo Allora Eh ce l'hai Beh gli ho chiuso Un po' Lo specchio Della porta No raga Oddio Oddio è buona Su Quasi Simeo Se passavano E mezzo Se passavano E mezzo Stavamo soli Stavamo soli Se passavano E mezzo Ma non poteva Passare Alvarez E lo ferma Vai 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 Simeo Ma 2 a 0 2 a 2 Più che altro Non si devono rompere Più che altro Non si devono rompere Se non vanno neanche Con il filo Se non vanno neanche Vabbè Giù Non ho capito un cazzo Cioè ti voleva leggere Ma no Non ho capito Una sega Che mi ha scritto Ti ha inviato un messaggio Vabbè Lo vediamo Nascio Fernandez Giù ma Quanto stiamo Con la live Dico A livello di orario Si avanzavi Si avanzavi Si avanzavi Si avanzavi Se avessi avanzato Se ti avessi mosso il culo Brandella Mettare al fanculo Perfetto Eh vabbè Mamma mia 56 minuti Ciao bello T'apposto Si frat T'apposto 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 Esatto Se di basse Si sono rotte La fine Eh lo so Ciao fratello Io sto pareggiando Contro il Borussia Dortmund Dai ci devo provare Dai frati Dedico a questo gol Non segnerò mai Eh eh guarda Mortacci su Dai ma no Non è normale sta roba Viene pressato Buono Quindi intervento L'invenzione Sarà No vabbè No vabbè No va bene Ma perché io faccio un passaggio E quello lo fa l'altro Domanda Pondito interrogativo Ecco Naccio Va bene Reie Eh va Va regalata 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 lui a me E avanza I mortacci tu Ma perché Ma vaffan Se il Cagliari fosse in Champions Veramente col B Vabbè col Borussia Se no mi prenderebbe 300 palloni No secondo me 5 a 0 Dai 5 a 1 5 a 1 Uno il Cagliari Forse lo fa Vai Dai Maurito Maurito Riccardi 3 a 2 Mamma mia Maurito Bam Sticca la bandierina Così perché mi va Bello Ua finalmente Un gol di testa Fa vedi Sembrava il fratello di quello di Di Olle Benji Quello che c'ha Come si chiama Fratelli Catapulta Che girone hai No fra il girone Ce l'ho passato Allora il girone era Io Atletico Madrid Olimpique Marcia E il Lask Che non so che cazzo di squadra è E sono passato A pari punti Con l'Olimpique Però l'ho simulata All'ultima Perché se no Potevo pure passare Senza Cioè con più punti Però l'ho voluta simulata No ferma questo Vado che tiro di merda Niente È regalata Mani No non l'ha presa con le mani Meglio No comunque niente Sono passato Primo E poi secondo L'Olimpique Marsiglia Mamma di Sommer E poi Ebbè Ma c'ho il Borussia Ma sto agli ottavi Mi sa che Forse è passato pure il Napoli Mi pare Mi pare però E fra ma c'è una squadra Veramente orrenda Cioè su scarsi Cioè veramente scarsi Cioè Te la faccio vedere Nel caso Cioè veramente orrenda La squadra Let's go Giovanni Simeone A me è smangonata Una fila Sperava bene Vabbè ma Le puoi pure provare Attacca il cavo Al pad Vai sul microfono E parla Se si sente Vuol dire Che è fattibile Se no no Ebbè Ma vediamo Proprio perché Mi sa che Non ho visto bene Il girone Mi sa Eh però Sono curioso Capito Però avevo visto Che Forse il Napoli Stava col Paris Saint Germain Nello stesso Nello stesso girone Siamo entrati Negli ultimi Cinque minuti Mado si segnavo Mado si segnavo Ok Ultima azione Vediamo se riusciamo a segnare Fred Cross di Fred Cioè Niente Parato Fallo Ah non è finita 4 a 2 Bur 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 Ma vediamo Aspetta voglio vedere un attimo Ma ci guardiamo un attimo il girone Pure perché C'ha senso Vediamo un attimo E sto girone Allora Classifica Primo posto Vedete ma c'ho pure Un bel po' di punti sopra Allora Scegli competizione Champions League Champions League Allora Andiamo direttamente agli ottavi Allora Celtic Sporting Sta vincendo il Celtic Ok Vabbè Cagliari Borussia Ragazzi Non c'ha senso Vabbè Ma ci sta Leverkusen Paris Saint Germain I Olympic Marseillare al Madrid Mamma mia Poveri Ah no Il Napoli non è passato Perché forse Aspetta Non mi ricordo In che giro ne sta Vabbè Manchester Barcellona 1 a 0 Eh ma vado a vedere i gironi Manchester Barcellona 1 a 0 Siviglia Lipsia 1 a 1 Liverpool Liverpool Bayern 2 a 2 Bellissimo Lille Aston Villa 0 a 0 Ah eccolo Il Napoli Aspetta Cosa Ma che è Lecce Poznan Ha buttato fuori Cioè Milan fuori Vabbè Strano Vabbè Qua sono io A pari punti Vabbè 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 Ma pure L'Atletico Non è passato Ah il Napoli Per un punto Eh ma l'ha perso Ah ha perso contro L'Aston Villa Allora prima ha pareggiato Poi con l'Aston Villa L'ha persa Poi l'ha vinta Poi l'ha persa E poi l'ha pareggiata Mamma mia Poi che ci sta Ah il Chelsea pure Uscito fuori Boh Che cazzo Le squadre C'hanno Vabbè L'Ajax fuori Ci può pure Stare La Juve La Juve Con quarta Boh Non c'ha senso C'ha 4 punti Insieme alla Dinamo C'ha senso Ma la Juve L'ha pareggiata Tutte C'è pareggio 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 L'ha persa Contro il Dinamo L'ha pareggiata E poi l'ha vinta Guarda Ma la Juve Fa schifo proprio Ma che è Vabbè qua Ok Questo non mi interessa E qua il PSB Vabbè Vabbè C'è sta C'è sta Vabbè raga Fatemi salvare Però voglio vedere Un attimo Perché forse domani Riusciamo a Forse domani Riusciamo a Chiudere Con FIFA C'è con La carriera Col Cagliari Ma non lo so Non so se Non so se Mi voglio fare Un altro anno Però C'è un po' I coglioni Europa League Vuoi vedere L'Europa League Aspetta Aspetta Vi chiedi un attimo Una cosa Marzo Aspetta Vi chiedi una cosa Calendario Allora Ne devo fare Uno Due Eh Sono parecchie Sono tante Mi sa che Non ce la faccio Domani Non ce la faccio Vabbè Guardiamo solo L'Europa League Un po' Stacco Che ce la faccio Più Ce la faccio Più Allora Europa League Allora Il Vigna Real Mia sorella Che canta Beh ci può Sta Ci sta Assolutamente No Il primo Non so che squadra Ma non ci sta Manchester United Vabbè Francofort Inter Ok As Monaco Udinese Primo Ma che Vabbè Turno per eliminare Fatemi vedere Atletico ha pareggiato Napoli ha vinto E poi basta Non ci sta niente Vabbè Niente Ho salvato Vi ringrazio Ringrazio le persone Che sono entrate In live Ci vediamo domani Domani continuiamo Sticks Facciamo pure FIFA E niente Io vi ringrazio Un bacio Un abbraccio E a domani Adios Amigos